ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube come sempre una buona serata a tutti voi siamo nel nostro appuntamento insieme di analisi estrazione quindi prima estrazione mensile del mese di marzo 2024 estrazione del primo marzo e andiamo a vedere quello che è successo allora sicuramente molti di voi hanno notato la ripetizione del 90 sulla ruota di genova quello che io avevo annunciato sono venuto qui in video ci ho messo la faccia e vi ho detto attenzione perché dalla spia 4 sulla ruota di roma dalla spia 4 sulla ruota di roma del 27 febbraio il 90 si ripeterà sulla ruota di genova e ci vuole coraggio a venire a dire una cosa del genere nel momento in cui il 90 proprio in quell'estrazione era sortito a genova questo vi fa capire molti non ci hanno creduto ma quello che io vi dico sempre è che intanto il 90 si ripete sempre sulle stesse ruote almeno due tre volte di seguito e su genova quando è uscito il 27 febbraio la spia 4 di roma me lo dava in ripetizione questo vi fa capire che quando vengo in video e vi vengo a dire guardate che il 90 si ripete su una determinata ruota vuol dire che quello che dico accade perché questo vi fa capire che sul 90 io degli studi e delle basi molto solide molto potenti perché venire qui e venirvi a dire guardate che il 90 si ripete su quella ruota non è cosa da poco non è facile venire qui e dirvi guardate giocate quel 90 perché si ripete a ruota molti di voi lo hanno vinto alcuni magari non ci hanno creduto ma questo vi fa ancora capire ancora di più quanto è importante giocare con i miei metodi spia perché quando vado a darvi il 90 non solo vado a darvi il 90 ruota secca me lo faccio vincere anche in ripetizione come è successo questa sera a genova e allora attenzione perché le mie spie abbiamo guardate il quadra estrazionale questa sera intanto abbiamo bari dalla spia che vi ho presentato la spia 39 di roma porta il 90 bari anche in ripetizione state attenti abbiamo bari cagliari e vi dirò di più genova secondo me si va a ripetere ancora perché vi direte perché questa sera si presenta un triplo zerato unito 90 20 e 30 quindi attenzione perché poi il 20 è un ottimo segnalatore 20 e 30 un ambo distanza 10 quindi molta attenzione perché si potrebbe ripetere tra l'altro le mie spie quando danno il 90 nei primi colpi è molto probabile che portano la ripetizione quindi chi ha il metodo in mano si continua per ambo secco e attenzione assoluta alla spia 39 anche con il 90 a bari e chi è in gioco anche la spia 87 di genova con il 90 di cagliari perché questa sera bari porta il gemello in terza posizione ma guardate la situazione con napoli doppio gemello in terza posizione dice sì al 90 77 bari 66 napoli in sotto pia un qualcosa di pazzesco l'88 grande segnalatore e bari porta l'ambo di cadenza 777 la ruota di cagliari porta anche l'ambo di cadenza 34 74 e quindi queste due ruote sono molto importanti napoli porta anche il gemello in terza quindi anche napoli diventa molto forte quello 80 di cagliari e anche un bel segnalatore c'è anche ambo distanza 2 80 78 poi abbiamo questo triangolo di cadenza 4 tra le ruote di bari cagliari 74 34 74 questa è una bellissima formazione in questo triangolo da del 74 il diagonale numero uguale quindi state molto attenti a queste due ruote perché anche a marzo su queste due ruote vedremo il 90 lo possiamo giocare bari cagliari quarta e quinta posizione prendete le mie spie perché fanno paura venire qui e venirvi a dire quella spia del 90 ripetizione poi voi sotto i vostri occhi vedete il 90 di genova sortire nell'arco di due colpi il 90 di genova si è ripetuto nell'arco di tre estrazioni due volte due volte 27 febbraio 29 febbraio primo marzo nell'arco di tre estrazioni il 90 è uscito due volte sulla ruota di genova e io questo ve l'ho annunciato con un 90 regalato con la spia 4 di roma questi sono i fatti cari amici che voi dovete considerare i metodi spie non vanno persi tra l'altro questo 90 proprio stra regalati a ruota secca qua parliamo di ruota unica ruota unica non è per niente facile pronosticare un 90 su proprio su quella ruota dove si va a ripetere sul quale estrazionale solo geno avete visto con il 90 e lo avevo annunciato contattatemi via whatsapp 348 75 47 715 per avere le mie spie si giocano nella modalità vincita venuta con l'impegno di giocata col pagamento alla vincita e con il metodo che però vi rimane a voi quindi rimane sempre vostro quindi mi raccomando le mie previsioni a colpo gemello vincente lotto magic idea vincente super tris sono tutte previsioni ottime la scorsa estrazione gemello vincente ha pagato lambo secco 55 20 a cagliari a colpo due ambi su tre ruote pagamento alla vincita quindi mi raccomando notiamo una bella somma 90 su venezia se 84 quante volte avete visto il 90 ripetersi sulla ruota di venezia tre volte di seguito quindi attenzione ambo distanza 2 anche 53 55 la cadenza 6 in terza sulla ruota di milano con la figura 9 27 da accompagnare il 5 segnalatore lumeretti sotto pi palermo roma 8 e 4 roma notiamo questa bella doppia figura 9 72 36 e poi abbiamo l'ambo di cadenza 38 88 quindi un mese di marzo guardate la super frequenza del 90 la super frequenza del 90 come sta arrivando e come si sta ripetendo sulle stesse ruote abbiamo avuto un mese di febbraio un altro mese in grande frequenza vedrete marzo cosa andrà a succedere cosa andrà a succedere nel mese di marzo seguitemi sul 90 ce li andiamo a vincere tutti quando vi dico il 90 su quella ruota arriva su quella ruota è proprio raro che vado a sbagliare la sortita attenzione quindi attenzione bene alle ruote di bari cagliari per il mese di marzo quindi mi raccomando poi vediamo ancora qualcosa c'è questa bella formazione napoli palermo che anche una bella coppia di ruote per il 90 dove abbiamo 10 60 in diagonale 25 25 numero uguale in diagonale formano un bellissimo quadrato e possiamo sommare i due elementi con i due zerati quindi 35 85 possiamo tentare quest'ambo secco napoli palermo nazionale tutte 35 85 napoli palermo si ambate che abbiamo secco quindi tentiamo questa formazione per il mese di marzo notiamo anche il gemello diagonale 55 66 napoli palermo questa è una bella una bella coppia e poi c'è questa somma 90 56 34 in verticale quindi veramente anche questa una bella coppia quindi secondo me bari cagliari napoli palermo sono un poker perfetto per questo mese di marzo quindi andremo a valutare quello che succederà quindi per marzo arriveranno le mie proposte giambo sotto controllo ce l'abbiamo in gioco con il 21 mi raccomando bari cagliari terza e quinta posizione arriverà il 90 segreto arriverà l'attesissima tabella numeretti che questo mese ci ha pagato soltanto tra virgolette lotto in convergenza in posizione però c'è anche da dire che a gennaio ci ha dato due ambi quindi vedremo se il mese di marzo ci darà ancora una volta un ambosecco arriverà il mio diario del mister dove vi andrò a dare sempre dei buoni consigli di gioco e vedremo se riusciremo a realizzare ancora dei bellissimi ambi secchi vi ricordo che dal diario del mister nel mese di febbraio ci siamo portati a casa l'ambo secco 660 sulla ruota di cagliari proprio all'inizio del mese il 2 di febbraio quest'anno ve l'arrivo regalato che non è stato altro che l'unione di ambata meraviglia e ambata big ambata big grande metodo metodo veramente importante assolutamente da non perdere perché da sempre ottime vincite quindi per i miei metodi mensili nei software potete contattarmi sempre via whatsapp o per il singolo metodo faccio una bellissima promozione per avere il pacchetto in promozione questo 90 di genova travate figura 9 in prima posizione sapete bene che la figura non prima posizione molto importante quindi non sarà strano se queste noi vedremo per la terza volta sortire il 90 genova quindi chi non ha preso il metodo può farlo abbiamo in gioco tre spie ancora al momento pari cagliari e genova state bene attenti perché arriveranno delle belle soddisfazioni perché il mese di marzo è un bel mese e ci potrebbero essere delle vincite eclatanti vediamo se possiamo ancora dire qualcosa mi sembra di no quindi ci daremo appuntamento all'estrazione di domani sabato 2 marzo vedremo l'estrazione di chiusura della settimana quello che ci andrà a portare venezia attenzione l'84 dicessi al 90 e oltre alla somma 90 quindi milano venezia ne vedremo delle belle perché c'è molta carne al fuoco quindi vedrete che arriveranno delle belle cose anche venezia cadenza 9 in terza cadenza se in terza milano e ci sono delle belle situazioni quindi vedremo già dall'estrazione di domani quello che potrà arrivare per adesso